Buongiorno a tutti, eccoci qua per la seconda puntata della pillola di balistica. Sono sempre Michele Frisia, la barba sempre più lunga per la quarantena, la taglieremo alla fine, e oggi siamo qua per parlare della storia di questa disciplina, che in realtà è una disciplina, ma sono molte discipline, come vedremo. Cominciamo dal 1247. In quell'anno sarebbe attestata la prima comparsa della polvere da sparo sul suolo europeo. Sappiamo che dovrebbe essere un'invenzione cinese, comparsa attorno all'anno 1000, ma i cinesi non avevano colto le potenzialità belliche di questo strumento. Invece, a metà del 1200, quando gli spagnoli fecero la riconquista, la riconquista spagnola di ogni città dai mori, qui nel quadro vediamo Ferdinando III che si riprende Siviglia, ci furono le prime attestazioni di quest'uso di polvere da sparo, come più o meno esplosivo. In realtà, meno di 150 anni dopo, rispetto a questa data, quindi parliamo della fine del 400, già le armi da fuoco erano diffuse in tutta Europa. Se le trovavano in Italia e in Inghilterra, perfino sotto forma di pistole portatili, per poi passare alle armi lunghe e alle armi di postazione, le bocche di fuoco. Ma il punto cruciale di questa data qual è? Perché è proprio la polvere da sparo il nucleo cruciale, il nucleo cruciale su cui dobbiamo discutere. Non sono le armi, l'arma è alla fine soltanto un tubo, anche in prigione si riesce a coltivare una pistola. Il cuore dell'arma è la munizione, perché è la munizione che riesce a fare questa cosa, cioè a trasformare un solido in brevissimo tempo in un gas incandescente, il gas incandescente ha ad altissima pressione, la pressione spinge sulle pareti e quindi proietta il mio oggetto solido verso il bersaglio. Pertanto è da lì che noi dobbiamo cominciare. Nel 1537 invece abbiamo il primo studio matematico, eseguito dal matematico italiano, che era uno dei più forti al mondo al tempo, Niccolò Tartaglia, per conto della Serenissima Repubblica di Venezia, che aveva da capire come funzionavano i proiettili. E il loro moto è il loro moto. Tartaglia è stato soltanto il primo di tantissimi scienziati che poi hanno continuato a studiare la balistica dal punto di vista fisico-matematico. Galileo, Newton, il matematico Euleo, Svizzero, la famiglia Bernoulli, ognuno di loro ha portato qualcosa a questa difficile disciplina che è la balistica esterna, che però nasce in questo momento, perché Tartaglia riesce a raggiungere anche delle conclusioni piuttosto interessanti. Si rende conto però che c'è un problema molto forte, che è, come abbiamo visto nell'altra pillola, l'aria. Nel 1742, invece, succede una cosa molto molto diversa, ma ugualmente importante. Benjamin Robbins, in Inghilterra, inventa il pendolo balistico. Il pendolo balistico è una massa a pesa, come questa che vediamo, delle corde. Quando il proiettile arriva e lo colpisce, si incasta e lo sposta. Spostandolo, questo peso si alza anche di una certa altezza. Ebbene, dalle equazioni di fisica della conservazione della quantità del moto, m per v, la massa per velocità, e dalla conservazione dell'energia successivamente, che dall'energia cinetica diventa gravitazionale, attraverso una serie di calcoli, si può capire, in base a questa altezza, a che velocità viaggiava questo proiettile. Sembra una cosa sciocca. In realtà è il punto in cui nasce finalmente la balistica interna. Si separano le due balistiche. Un momento fondamentale, perché se noi guardiamo questo disegno, qui vediamo che c'è una bocca di fuoco che proietta una palla di cannone, contro un muro. All'inizio si studiava tutto insieme, in maniera olistica, ma non si capiva niente, perché cambiavano le bocche di fuoco, cambiavano le polveri, cambiavano le palle, cambiavano i muri. Solo iniziando a separare queste discipline, si è incominciato a capire qualcosa. Nel 1794, quindi un sacco di tempo fa, in Inghilterra è stato risolto un omicidio per la prima volta. A quel tempo c'erano le armi ad avancarica. Le armi ad avancarica bisognava inserire la polvere, poi la munizione, e poi bisognava mettere, bisogna farlo ancora oggi, una stoppa, un pezzo di carta, un pezzo di stoffa, per tenere tutto insieme, altrimenti quando si ruota l'arma ad avancarica, riesce tutto. Ebbene, è stato trovato, vedete, un piccolo ritaglio come questo all'interno del cadavere, della vittima di questo omicidio. A casa del sospettato venne trovata l'altra parte, e quindi fu possibile collegare la persona all'omicidio. La stessa cosa avvenne poi nel 1835 in maniera analoga. Venne trovata una palla come questa, che però aveva un difetto di fusione, e quando la polizia andò a casa del sospettato, trovò uno stampo per stampare i proiettili per la pistola d'avancarica, al tempo si stampavano in casa col piombo fuso, che aveva lo stesso difetto, e di nuovo è possibile collegarlo la persona all'omicidio. Nel 1830 circa, in Francia, il dottor Dupitrel iniziò la prima sperimentazione di balistica terminale. Nasce in quel momento. Balistica terminale è lesionale, perché lui iniziò già ai medici prima. Lui era un medico, era un medico tra l'altro molto famoso. Pensate che l'ha citato Flaubert, l'ha citato Vittor Grugone e Miserabili, Balzac scrisse un racconto su di lui, ed era il medico personale di Napoleone, passato poi alla storia per avergli curato le emorroidi. In realtà era un medico molto 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 bravo, e iniziò per la prima volta a sparare sul legno, sui vestiti e perfino sui cadaveri, a quel tempo si usava molto di più, per cercare di capire quello che succedeva. Non giunse a tantissime conclusioni. Fu Cocker, uno svizzero, uno svizzero che molto più avanti, alla fine del secolo, fece degli studi, perché lui era un medico famosissimo, tant'è che prese il premio Nobel, ma la sua intuizione fu di coinvolgere dei fisici nello studio. E in quel modo riuscì ad ottenere dei risultati molto 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 più importanti. Pensate che a quel tempo, al tempo di Duprude prima di Cocker, si pensava che la lesione al corpo fosse causata dal fatto che il piombo incandescente bruciava la carne via via che andava, ovviamente un'ipotesi assurda. Un'altra ipotesi era che il moto rotazionale, un po' come un proiettile fosse un trapano, penetrava all'interno del corpo. Grazie all'insieme della conoscenza medica di Cocker e dei fisici che lui interpellò, erano Svizzere per questo che poi la balistica terminale in Svizzera è molto diffusa, riuscì a veramente dare un'innovazione molto importante. Quindi siamo arrivati in un momento in cui fondamentalmente è nata tutto, la balistica interna, esterna e terminale. Ma ci sono, vedremo, delle altre sorprese. Nel 1848 accade una cosa, anche qui molto molto importante, sempre in Francia, il proiettile sferico viene sostituito con il proiettile allungato. Questo è un disegno che vorrebbe richiamare un po' il Minier, ma non fu Minier a inventarlo il proiettile allungato, furono una serie di ufficiali dell'esercito che lo inventarono perché era più comodo sempre nel fucile d'avancarica inserire la palla, piuttosto che una sferga che poi bisognava sforzare per farla entrare, inventavano questi proiettili un pochettino più piccoli, quindi entravano facilmente. Ma essendo cavi all'interno, i gas li allargavano e riuscivano a spararli ugualmente perché aderivano alle pareti. Questa cosa, se ci pensate, questa cosa venne fatta per agevolare il caricamento. Allo stesso modo in cui vennero fatte le rigature, delle canne, per agevolare il caricamento. Eppure queste due cose insieme, costruite per altri motivi, insieme, portavano un'evoluzione del lancio dei proiettili incredibile che ancora oggi possiamo percepire tranquillamente in ogni anima regata, in ogni arma con l'anima regata. Nel 1860 poi, in Inghilterra invece, avvenne un, fu mi sembra Novel, non quello del premium, ma in inglese, a inventare il crusher. Il crusher è un cilindretto di rame. Il rame è un metallo, apparentemente è duro, in verità è per i metalli abbastanza morbidi. Ora, se noi questo cilindretto di rame lo mettiamo in collegamento con il gas all'interno della canna, facciamo un foro, lo mettiamo, mettiamo una coppettina con questo crusher all'interno. Quando il gas arriva, la pressione spinge e schiaccia, schiaccia questo cilindretto di rame. Dalla variazione di lunghezza noi possiamo dedurre la pressione. Quindi, questa, ne parleremo a breve, di questa curva della pressione, quindi noi possiamo capire cosa succede momento per momento e luogo per luogo all'interno della canna alla pressione. E quindi c'è un cambiamento generale dell'approccio alla ballistica interna. Prima si usava il pendolo ballistico per dedurre dalla velocità la pressione. Adesso si può misurare la pressione direttamente. E quindi l'evoluzione tecnologica cambia tantissimo. Oggi non si usa più il crusher ma si usano dei sensori elettronici piezoelettrici montati su una cosa come questa che è una canna manometrica. Come spesso accade, le innovazioni vanno insieme. Proprio nel momento in cui viene aumentato il crusher e si può capire finalmente che pressioni ci sono all'interno della canna, viene percepito anche la necessità di avere pressioni maggiori. Perché pressioni maggiori vuol dire velocità migliore, più grandi e quindi traiettorie più tese e gittate più lunghe. A metà del 1800 un tedesco mi aveva inventato le nitrocellulose. Alla fine del 1800 in Francia iniziavano a inserirlo all'interno delle munizioni. Ma perché ci interessa tanto la pressione? Qua c'è un diagramma. Questa è la lunghezza della canna. Questa è la lunghezza del bossolo. Qui c'è l'inizio della canna e qui alla fine quando la polvere da sparo brucia all'interno della cartuccia e poi prima sbossola e poi e si espande spingendo il polvere lungo la canna la pressione prima aumenta poi diminuisce fino a ritornare alla pressione standard che poi è quella fuori dalla canna della pressione atmosferica. Questa PM è la pressione media che abbiamo all'interno all'interno della canna. Ora più questo picco è alto e più io riuscirò ad avere una velocità alta ma non si riusciva più con le polveri nere ad avere delle pressioni elevate motivo per cui arrivarono l'elettrocellulosa che tra l'altro era pure in fuma quindi aveva anche un vantaggio ulteriore e grazie a questo cambio le prestazioni delle armi cambiavano radicalmente e si svilupparono ancora di più. Nel 1889 visto che c'è stata questa forte evoluzione sia sulle munizioni che sulla nitrocellulosa alla convenzione dell'AIA deciso di vietare alcune munizioni come quella che è raffigurata qua che è una munizione di un DOOM con una punta cava che al momento dell'impatto si spezzava in molte parti e danneggiava anche se un soldato veniva colpito per dire un braccio era praticamente certo che lo perdesse quando invece con un poiettile militare normale sarebbe stato possibile curarlo. Quindi per evitare un'eccessiva crudeltà dei teatri bellici nel 1889 qualcuno pensa a volte che sia una cosa vietata dalla convenzione di Ginevra ma la convenzione di Ginevra verrà molto molto dopo e non parlerà direttamente di queste cose ma si rifarà alla convenzione dell'AIA nel 1889 su questa questione e ancora oggi la Croce Rossa Internazionale di Ginevra vigila su queste questioni. Nel 1914 c'è un momento forte per la balistica forense viene inventato il guanto di paraffina a Cuba viene ucciso il capo della polizia e dei commissari di polizia locale inventano questo guanto di paraffina che poi arriva in Messico nel 1933 da lì subito negli Stati Uniti il guanto di paraffina fondamentalmente funzionava così si colava della cera sulla mano questa cera entrava cera calda entrava nei pori si staccava e poi attraverso dei lavaggi su quello che rimaneva si cercavano delle particelle di sparo in realtà si trovano i nitriti che sono sostanze organiche che sono diffuse dappertutto quindi era già nel 1935 l'FBI in cui c'era a capire che c'erano dei problemi dal 1935 poi infatti sono state modificate molte cose sono state usate altre tecniche e tutto quanto è stata poi abbandonata l'Italia è arrivata un po' in ritardo tant'è che fino al 1989 sono state condanne basate su questo sistema che è profondamente sbagliato nel 1925 viene inventato un'altra cosa molto importante per l'ambito forense il microscopio comparatore i due proiettili vengono messi qua finiscono nello stesso oculare e si possono vedere vicino per modo che le strie come vedete queste continuino questo è un solco questo è un solco solo il proiettile è molto ingrandito ma vedete che continuano in questo modo il proiettile balistico può stabilire che due proiettili o due bossoli siano stati sparati dalla stessa arma nel 1938 ecco nasce la balistica intermedia l'ultima la balistica intermedia è studia quello che accade vedete questa è un'onda stazionaria alla bocca di fuoco non si capiva bene cosa succedesse lì nessuna equazione riesce ancora oggi a riprodurlo si usano o fotografie ad alta velocità e filmati o simulazioni numeriche ma quello che accade qua è molto importante non è importante soltanto perché da lì si genera il fuoco il fuoco la luce quindi la vampata e anche il suono quindi il bank sonico esce da lì e tutti gli altri rumori ma anche per la precisione dell'arma volendo vedere quello che accade qua nella balistica intermedia è molto importante è una disciplina abbastanza giovane merita di essere studiata nel 1971 per la prima volta vi ho detto che il guanto di paraffina non si usava più perché dava dei farsi negativi e viene usato il microscopio elettronico a scansione per trovare i residui di sparo delle particelle uniche qui vedete un microscopio ottico come funziona l'oggetto trovate una lente finisce nell'occhio il microscopio elettronico è la stessa cosa anziché usare la luce si usano gli elettroni anziché usare le lenti le lenti magnetiche e l'oggetto poi emana una serie di informazioni che non vengono più rivelate dall'occhio perché ovviamente gli elettroni non siamo in grado di vederli ma un rivelatore di scattered di secondary electrons e elettroni secondari di BSE quindi backscattered electrons rimbalzatele indietro e di raggi X tutte queste importanti informazioni ci danno tantissime tantissime nozioni su che tipo di oggetto è e se è una particella di sparo noi possiamo stabilire in certi casi che è una particella univima quindi può venire soltanto da uno sparo nel 1986 c'è una sparatoria a Miami che cambia di nuovo la ballistica interna all'FBI 8 agenti arrivano per arrestare 2 rapinatori i 2 rapinatori poi verranno uccisi nello scontro a fuoco ma quando sono già stati colpiti quando le ferite mortali sono già state inferte quindi si tratta soltanto di aspettare che questi due poveretti alla fine perché se la siano cercate nel rapinatori stiano decidendo riescono a uccidere due agenti di FBI a fare in altri 5 in una sparatoria solo di 5 minuti per cui l'FBI apre un protocollo e incomincia a studiare tutto quello che riguarda la ballistica terminale generale delle munizioni e porterà un sacco di cambiamenti col tempo si usavano munizioni blindate come quelle che purtroppo usavano ancora in Italia che si sono rivelate in quel caso inefficaci questa è stata una piccola piccola piccolissima e molto veloce carrellata dal 1200 ad oggi le principali cose che sono accadute almeno quelle secondo me e secondo altri studiosi vi manderò degli approfondimenti per vedere se dei siti di internet dei link dei libri in modo che se volete approfondire queste questioni potrete farlo e chiaramente nei nostri corsi riusciamo ad approfondire tutti questi tanti tantissimi concetti che vi ho riassunto in questi 15 minuti di questa pillola in maniera migliore voi state a casa speriamo che questa situazione finisca presto un abbraccio a tutti quanti e vi saluto